E' uscita la nuova maglia, come sai oggi la partita contro la Roma verrà giocata proprio con questa nuova maglia, cosa ne pensi? Mi piace molto, a prima vista è proprio bello anche il messaggio che dà perché appunto è legata al DNA e quindi la Fiorentina non è solo la nostra squadra ma fa parte proprio del nostro corpo e del nostro DNA e sono molto curiosa di vederla oggi in campo. Io vengo proprio da te perché hai la maglia nuova della Fiorentina. Sì. Quindi ti è piaciuta proprio tanto per prenderla subito? Sì. Questa nuova maglia è piaciuta particolarmente? Sì, sì, abbastanza. Se no non l'avevo addosso, non mica il BAM, invece forza viola sempre. Bello soprattutto il significato. Eh? Bello soprattutto il significato. Solamente questo, l'ho sentata più di tutti. Appena uscite già l'hai comprata? Ovvio, era un obbligo. Ti piace? Sì, molto, molto. Per il significato anche? Ma sì, pure per quello, anche per l'estetica non è male. Qualcosa di nuovo ci andava. Hai comprato subito la maglia nuova? Sì. Quanto ti piace? Tanto. Oggi giocano con questa maglia, eh? Sei contenta che hai la stessa maglia dei giocatori? Sì. Do you like this new t-shirt? I'm a big fan of the new shirt. What? Yeah, I like it very much and I hope this should be the DNA of Fiorentina. Yeah. Where do you come from? I'm from Austria, Tirol. Why here? Just for the match. It's my first time at the Franchi and I'm very happy to be here. Sei carico per questa partita? Sì. Ma vieni sempre al Franchi? No, però alcune volte sì. Adesso arrivano i calciatori, sei emozionato? Sì, molto. Chi è il tuo preferito? Gonzales. Gonzales. Va bene, allora fammi un Forza Viola. Forza Viola. Sul destro, tocca sul secondo palo, il tocco dentro per il Sharawi da parte di Solbakken. E c'è il vantaggio della Roma, arriva al dodicesimo minuto del primo tempo. Fiorentina merita il pareggio. Quamè, il cross è delizioso. Salta Mandragora, pallone dentro Barjavic! E segniamo all'ottantacinquesimo! Molto bravo, ma anche a farsi trovare pronto Mandragora, Jovic sul secondo palo, è un falco. Corso sinistro, il cross è delizioso, tanti invitati alla festa! Iconè! Iconè! Ed esultiamo adesso! È proprio lui! È così. E finisce con la Fiorentina che si lancia verso l'ultima partita di questa stagione. La famiglia è un'altra famiglia in Italia che si lancia verso l'ultima partita di questa stagione. La famiglia è un'altra famiglia a votare. Lo rievo grande al loro. Lo rievo è un'altra famiglia. E non è si vanno a fare. no, no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.